L'ambiente diventa una materia viva se si lega alla vita delle persone, al lavoro delle persone, all'economia, ma non dobbiamo arrenderci all'idea che la produzione di energia debba essere incompatibile con il rispetto della natura. Senza la transizione ecologica siamo morti, senza lavoro non trova forza e spinta propulsiva neanche la battaglia per l'ambientalismo. La linea della Campania è questa. La linea della Campania è questa. La linea della Campania è questa.